Quella ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Supermarket Simulator, titolo ancora in accesso anticipato. Allora ragazzi, tutto quello che dovremmo fare in questo gioco è quello di gestire al meglio il nostro supermarket. Spero che andranno avanti con questo gioco perché l'ho già giochicchiato un pochino prima di iniziare questo primo episodio. Devo dire ragazzi che è molto interessante, fatto bene, costruito anche in maniera molto simulativa. Insomma, andremo a scoprirlo insieme pian pianino. Non posso andare ad abbassare il livello della musica perché, come potete ben notare, non abbiamo nient'altro. Quindi abbiamo solamente la grafica, la lingua, la risoluzione, schermo intero, qualità grafica, come detto, e la sensibilità del mouse. Dunque ragazzi, allora andiamo con una nuova partita, sì. Dunque allora, inizierei con un piccolo negozio che diventerà un fantastico supermercato. Inizio acquistando la merce da vendere e posizionandola sugli scaffali. Non dimenticare di fissare i prezzi con un profitto per evitare la banca rotta. Buon divertimento. Allora, devo dire ragazzi che è molto ben diverso da, com'è che si chiamava, Trader Life Simulator. Perché qui, in primis, la roba che acquistiamo, possiamo andare a fissare noi il prezzo. Quindi decidere noi che tipo di prezzo fare. Che tipo di prezzo mettere. Se metterlo un po' più alto o un po' più basso. Per rifornire i nostri scaffali, basta avvicinarsi premendo il tasto sinistro del mouse e il prodotto lo mette in modo automatico. E questa cosa qui ragazzi è veramente molto molto fondamentale, ma anche molto più sbrigativa rispetto a Trader Life Simulator. Anche qui ragazzi, se la gente ad esempio non trova un prodotto, allora prende e se ne va. Se un prodotto ha un prezzo un po' più alto, naturalmente non l'acquistano e se ne vanno. Detto questo ragazzi, bando alle ciance, allora, dobbiamo ordinare la merce. In questo caso qui abbiamo soltanto cereali, pane, farina, olio, pasta e zucchero a velo. Vediamo un po', possiamo prendere del pane a fette. Allora, questa, perfetto, ottimo. Allora, vado qui, vedete, apro e o tengo premuto il tasto sinistro e lui va in modo automatico, oppure uno per volta li posiziona sempre in modo automatico. Dunque, allora, il prezzo. Il prezzo di mercato è di 3,96$. E non so ragazzi se possiamo farlo anche noi. 3,96$, perfetto. Con un profitto di 2,97$. Apri il negozio, ok. Dunque, allora, vediamo un po', possiamo prendere anche della pasta? 7$, perfetto. Ottimo. Allora, aspetta un attimo. Dobbiamo fare subito prima che si prendano la pasta. Allora, 3,12$. Ok, perfetto. Andiamo qua. Allora, qui alla cassa è veramente un divertimento, perché saremo noi a mettere la cifra e anche a dare il resto. Dunque, allora, il tipo ha preso soltanto il pane e ci paga con contanti. Gli dobbiamo dare 0,04 centesimi. A posto. Basta che premo barra spaziatrice ed è fatta. Questo qui paga con la carta. È 96. E stiamo a posto. Ottimo, ottimo. La signora ha preso pasta e pane, paga con la carta. 7,08. È ok, perfetto, ottimo. E niente, ragazzi, questo è quanto? Questo è quello che dobbiamo fare. Al momento dobbiamo servire solamente 25 persone, che onestamente, ragazzi, sono un bel po'. Allora, pasta e pane, 2 dollari e 92 centesimi. Perfetto. Ole. Ottimo, ottimo. E allora, fatemi vedere. Possiamo prendere anche dei cereali. Ok. Aspetta. Ale. Ottimo. Allora, clicco. A posto. Lascia questo. Fissa il prezzo. 5,98. Possiamo fare anche 6 dollari. Con la speranza che se l'acquistano. Perché 6 dollari, oddio, sono un po' troppi, eh. Allora, carta di credito. 3,96. Ok. Dai, su, se li comprano. Anche per 6 dollari, se li comprano. 9,12, 9,12. Dando 0. Perfetto, ok. E niente, ragazzi, questo è quello che dobbiamo fare. Quindi, gestire il nostro supermarket. Dai, così. 6 dollaroni. E stiamo a posto. Dunque, allora. Abbiamo preso cereali, pane, pasta. Possiamo fare anche zuccherà a velo. 13 dollari. Ammazza. Ma è veramente molto caro. Dai qua. Posiziona. Metti qua. Fissa il prezzo. Anche 5 dollari. Ma sì, dai. Chi se ne frega. Sicuramente non se lo comprerà mai nessuno. Dai, è così. Resto 4 dollari. A posto. Ottimo. Dai, su, se lo comprano. Se lo comprano. Ok. 5 dollari. E stiamo a posto. Ok. Ok. Dunque, ragazzi. Allora. Molto, molto infognante. Molto realistico, se vogliamo. Non so quanto potrebbe essere lungo. Perché, andando a vedere qua in gestione. Vedete che qui abbiamo tutte quante le licenze che ci occorrono. Perché più andiamo a sbloccare le licenze. E più ci sblocca anche altri tipi di prodotti. Tipo, ad esempio, il latte. Oppure dell'acqua. Li dobbiamo mettere dentro un frigo. Quindi, al momento, non abbiamo il frigo. Però, sicuramente, sviluppo. Vedete che qui ci dà l'opportunità di poter acquistare la sezione 2. Per espandere il tuo supermercato. Quindi, supermercato, scusate. Quindi è 4x4. Sono tutti quanti 4x4? Sì, sono tutti quanti 4x4. Quindi, più si va avanti e più costa. Allora, cereali. Paga con la carta la signora. A posto. Pane e pasta. 0 dollari. A posto. Che cos'è che possiamo prendere in più? Poi, naturalmente, ragazzi, abbiamo anche la possibilità di poter assumere un cassiere. Fino a 4 cassieri. Abbiamo il magazzino. Quindi, bloccato. Però, ci costa 6.000. E la personalizzazione. Quindi, questa qui è prossimamente. Spero, ragazzi, che lo rilasceranno in modo definitivo. Dunque, allora, licenze. Aspettate. Mercato. Olio. Vediamo un po'. Prendiamolo anche. 20 dollari. Eh, vabbè, ragazzi. Sono cose che, comunque, dobbiamo acquistare per forza di cose. Aspettiamo che finiscano di fare la spesa prima che arriva gente. Vai. A posto. Mettilo qua. Vai qui. Allora, 4.50. Mettiamola a 4.50, dai. Abbiamo un profitto di ben 3 dollari. Che è cosa buona e giusta. Un'altra cosa, ragazzi, che ho scoperto è quello che possiamo andare anche in giro a, diciamo, tra virgolette, a farci un po' gli affari degli altri. Tipo, come ad esempio, qui. Però, non possiamo entrare. Allora, aspettate che c'è un po' di gente. Zucchero a velo. 5 dollari. A posto. Zucchero e cereali. Con tanti. Il resto, 9 dollari. 5, 7, 8 e 9. A posto. Olio e pane. Paga con la carta. 8 e 46. A posto. E un'altra cosa, ragazzi. Se vi sbagliate a dare il resto, non glielo dai il resto perché comunque avete sbagliato. Dammi i soldi. Madonna, 50 dollari. Dobbiamo dare 41 dollari e 54. 20, 40, 41. 50, 1, 2, 3, 4. Giusto? Sì, perfetto. Quindi, fin quanto è verde, stiamo a posto. Abbiamo 50 dollari. Allora, ci manca il pane e la pasta. Dunque, pane e pasta. Prendiamo prima il pane che costa un po' di meno. Allora, qua è pieno. Mettilo anche qua. Tanto comunque, ragazzi, il prezzo si sposta in modo automatico. Soltanto pasta con tante. Mamma mia, 46 dollari, 80. Allora, 20, 40, 45, 46, 5, 60, 70. 75, 80, 88. Perfetto. Allora, 2 di pane e 1 di pasta. 0 di resto. A posto. Pasta. Paga con la carta. Quindi, se mettete 3.5, vedete, importo del pagamento. Com'è? Errato. Quindi, è già un'ottima cosa anche questa. Allora, 2 di pasta. 6 e 24. Ok. A posto. Allora, dobbiamo prendere dell'altra pasta. Sì, perché è finita. Quindi, dammi la pasta. Ah, cavolo. È vero. E dobbiamo praticamente chiudere, ragazzi. Ok. Allora. Statistiche giornaliere. Giorno 1. Abbiamo speso 111 dollari. Il bilancio è di 63 dollari. Ok. Riceverai bollette giornaliere a partire da oggi. Assicurati di pagare le fatture usando il computer prima della loro data di scadenza o verranno pagate automaticamente. Più dispositivi elettronici, scusate, ci sono, più altre saranno le fatture. Quindi, in questo caso, abbiamo soltanto la luce, il computer e, credo, anche la cassa. E quindi, andiamo a pagare molto, molto di meno. Dunque, no. Due, no. Perché sono troppi. Dammi ne uno soltanto. Perfetto. Eccola la pasta. Sta arrivando. A posto. Ok. Butta via tutto. Ale. Ottimo. Dammi la carta. 21 dollari. A posto. Che cos'è che ci manca? Allora, il pane c'è. L'olio anche. Forse, magari, saranno un po' troppo alti i prezzi. Però, comunque, vedo che i cereali, comunque, si ricomprano. Vogliamo prendere anche della farina? Ma sì, dai. Facciamo anche la farina. E... E... Ma l'ho acquistata? Quanti cavolo... Ah, no. Perché, no? Forse non mi bastano i soldi? Due di questi. 12 dollari. Scusa, quanto costa sta farina? 79. Scusa. Totale. 8 dollari. Perché, scusa, prima non me l'ha fatta comprare? Eh, forse, evidentemente, ho sbagliato io qualche cosa. Non lo so. Comunque, vai, metti qua. Imposta subito il prezzo. Allora, 3,71. Possiamo fare anche 3,75. Ok. Allora, sto vedendo che i cereali, in tal caso, stanno anche finendo. Quindi, dai, soltanto farina. Ma, scusi. Eh, che cos'è? 3,75. Ok. Allora, dobbiamo prendere... Che cos'è che ci mancava? Ah, i cereali. Allora, cereali, 37 dollari. Un attimo che arrivo, signori. Ecco qua. A posto. Butta. Due clienti. Eh, a ridargliela. Eh, che cos'è? Che pagate in contanti? Ah, cavolo. Non riesco a trovare... Eh, ma adesso gli ho messo i cereali. Ma mi scusi? Che cos'è? Al resto... No, aspetta. Ah no, il resto 0,50. Scusate, non avevo letto. Allora, che cos'è che ci manca? Credo che stiamo a posto. Che cos'è che possiamo prendere più? Nient'altro. Anche perché, comunque, come detto, per poter prendere la licenza abbiamo bisogno di tanto, tanto denaro. Quindi, assicuriamoci di avere questo denaro, sufficiente. Salva la partita, continua. E niente, ragazzi, questo è quanto. Insomma, non è che viene così tanta gente. Accendi la luce usando l'interruttore sul muro, già fatto. Vabbè, comunque era soltanto il tutorial. A posto. Allora, al resto niente. Ale, 2 di pane, 7,92. Carta, 12. E 12, perfetto. Ok. Allora, ragazzi, la roba sta finendo. Sta andando veramente benissimo questo secondo giorno di lavoro. Carta, quando è? 15. 75. Ok. Fatemi vedere che cos'è che ci manca. Olio. Olio. Eh sì, soltanto olio. Allora, 88 dollari. Perfetto. Allora, sposta di qua sopra. Ok. Pane c'è ancora, sì. Che cos'è che ci manca? Nient'altro. Allora, naturalmente, ragazzi, possiamo anche spostare i nostri scaffali. Scusate. I nostri scaffali. Anche qui la stessa cosa. Ok. Li metto un po' tutti quanti belli sistemati. Poi dopo, ragazzi, non so come andrà a finire con l'espansione del nostro supermarket. Se si andrà ad espandere più in qua, più in qua, più in là, non lo so. Perché comunque, al lato qua non c'è niente. Forse... Ah, aspetta. Eccolo qua il magazzino. Hai capito? Ammazza che bestia. Forse evidentemente qua possiamo lasciare la roba? Forse sì. Carta. 12.42. Aridagliela. 9.96. Scusi, buon uomo. Dollaroni. Il resto 76. 76. Eh, dagliela. Non mi usciva i 76 centesimi. Scusate. Non mi usciva. E quindi, quindi. Farina. Allora, abbiamo praticamente tutto. Due di farina a presa. Ha preso? Pure con la carta? Ah, James Bond dei poveri. E dai, eh. Allora, accendi una luce. Aspettate voi là sotto. Eccomi. 1.2. Carta. Questo qua chi è? Un altro James Bond dei poveri? O assomiglia quasi a Man in Black? Aridagliela questa carta. 20. Ok. Oh, ecco qui. 90 dollari. 1,01 centesimo. Allora, un centesimo te lo posso pure dare. 5,27,29. A posto. Farina. Dagliela. Resto? Niente. A posto. Allora, altra pasta. Altra pasta. Ok. Eh, ragazzi. Purtroppo la roba finisce in fretta. Però, meglio così, eh. Meglio così. Meglio per noi. Mettere l'altro pacco qui. A posto. Ale. Ottimo. 2 di pane e 1 di olio. 2,58. Allora, no. Cavolo, ho sbagliato. Come faccio per tornare indietro? Ah, ok. Perfetto. Quindi basta che clicco con il tasto destro del mouse sui soldi e quindi ritorna indietro. E dunque, allora, abbiamo detto 58, 50, 70. Ah, ridagliela. Eh, che cavolo. Allora, 58. Ok, a posto. Eh, scusate ragazzi, ho fatto un po' di confusione io. Ah, no, cavolo, scusi. Ale. Ho fatto un po' di... Eh, che cavolo. 46 e 25. Allora, toy 25, 20, 40, 5, 46, a posto. Eh, sì, scusate ragazzi, avevo fatto un po' di confusione io. Eh, dunque, allora, vedete adesso il gioco che cosa ci chiede? Eh, ci chiede, in pratica, di prendere una licenza. Quindi, di acquistare una licenza. Le licenze, ragazzi, purtroppo, e sottolineo purtroppo, eh, costano veramente tantissimo. Guardate qua. Livello negozio richiesto 3. Noi siamo al terzo livello. Eh, ci costa ben 300 dollari, ragazzi. Cioè, non so se mi si piega. Però, voglio dire, 300 dollari. Eh, sono anche un po' troppi. Allora, prodotto non trovato. Forse era quella lì che... Stava cercando i cereali. Ma li avevo messi praticamente in quel momento. Pasta e pane a fette. Quindi, quando c'è la freccia in su verde, significa che il prezzo è buono. Eh, se incalo, vuol dire che non tanto va bene. Comunque, salva la salvatina. Perfetto. E niente, ragazzi. Questo è quanto? Questo è quanto? Allora, dobbiamo prendere altra farina. Ah, ecco. Allora, dobbiamo pagare le fatture che ci costano 5 più 20 dollari di affitto. Quindi paga e paga. E niente, ragazzi. Abbiamo già finito i soldi, quindi fate un po' conto voi. Allora, abbiamo detto farina. A posto, giusto? Sì. Tanto noi qua siamo aperti. Allora, qua non ci va. E lo devo mettere per forza qua, ragazzi. Perché non ci va più niente. Eh, sì. Forse magari la gestione dei prodotti è un po' così. Però, comunque, lascia fare. Soltanto un po' di pazienza. 1, 2, carta. Ok, 6 dollari e 87. Dai, su. Forza, buon uomo. Cereale e farina. Resto, zero. Perfetto. Dunque, allora, non ci manca niente. Abbiamo praticamente tutto. Anche perché... Aspettate. No, ci abbiamo tutto. Anzi, no, lo zucchero. No, lo zucchero c'è, scusate. C'è praticamente tutto. Ok. Quindi adesso bisogna soltanto pagare, pagare. E, naturalmente, anche farci bastare i prodotti. Almeno per altri quanto. 200 dollari più o meno. Eh, speriamo. Allora, il resto, zero. Perfetto. Raggiungere praticamente 200 dollari sarà un po' impossibile. A posto. 2 dollari e 50. E 75. E soltanto pane James Bond dei poveri. Con la carta, addirittura, c'è 3 dollari e 90 si pagati con la carta. Eh, vabbè. Comunque, ragazzi, naturalmente possiamo aumentare anche un po' i prezzi. Ma non di tanto, perché altrimenti nessuno si compra niente, nessuno cerca quantomeno di acquistare la roba. Allora, 200 dollari ce li abbiamo. Allora, 3,75. Possiamo mettere pure 4 dollari la farina. Mi sembra un po' troppo. 4,50. 6, 5, 3,96 la pasta. E questo, 3,12. Ah, 3... No, aspettate, il pane. 3,12. 3,29. Possiamo fare anche 3,50 la pasta. Dobbiamo comprare l'altro pane. 4,75. Possiamo fare anche 4,80. Ok. Aspettate un po'. Facciamo un altro ordine di pane. Ok, perfetto. Prendi. Arrivo, buon uomo, eh. Lasci fare. Allora, non ci va più, quindi lo mettiamo qua. Ok. Arrivo, arrivo. Due secondi di pazienza, eccomi. Contante. Il resto 0,8. Quindi sono 5, 6, 7, 8 a posto. Dai, ecco la pasta. 0, a posto. Contante. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. Allora, l'olio va a ruba. Anche il pane va a ruba. La pasta anche. Contante. Eh, che cavolo. 31,50. 20, 30, 31. Ah, no. 31,40, scusate. Quindi facciamo 25, 35, 40. Perfetto. Dammi esordi. Un dollaro. Ma, scusate, ma se facciamo. Ah, ecco, pure anche due da 50. Ok, benissimo. Perfetto. Ottimo. Dunque, che cos'è che ci manca? Mi sa l'olio. Eh, ragazzi, però. Anzi, no. I cereali. Che è l'olio? Ci mancano i cereali. Ale. Allora, questo qua te lo piazzo. E qua sotto. Eh, sì, per forza. Mo' ci manca la pasta. E l'olio. E la farina. Maledizione. Due uguali. Che siete gemelle? Una paga con la carta. 11,50. No, scusate. Perfetto. Tu paghi con? So gemelle. So gemelle. 8,80. Contante. Il resto 0. Eh, che cavolo. 3,50. 2,62. Allora, che cos'è che ci manca? Pasta e farina. E niente, ragazzi. Pasta e farina. 14, 16 dollari. E vabbè, acquistiamo le ste cose, ragazzi. Perché comunque, voglio dire, sono sempre buoni soldi. Ecco, già non ci va più. A posto. Questo qua lo mettiamo. Eh, che cos'è la farina? Eh, vabbè, la farina, ma la mettiamo qua. Non ce ne stanno più dentro? No. Ok. A posto. E l'olio. Ecco. Ci manca l'olio, porca. E niente, ragazzi. Mi sarà tanto che... L'olio lo devo mettere per forza là. Perché sennò poi altrimenti si mischiano... Guarda questo. Guarda qua. 33 e 60. 2, 79. Sì, perché sennò poi i prodotti iniziano a mischiarsi, eccetera, eccetera. Insomma, non è una buona cosa. 9, 60. Allora, fatemi salvare la partita. E olio. E niente, ragazzi. Allora, pasta e pane sono in rialzo. Olio, 20 dollari. Eh, vabbè. Tanto comunque abbiamo chiuso. Anche perché noi ragazzi possiamo restare anche un po' più tardi. Contante, 50, 19 e 40. Allora, 25. 35, 35, 40 e 19. Quindi sono 10, 15, 16 e 19 a posto. Ottimo, pasta. Eh, che cacchio. 3, 50, 12 dollari. Eh, che cavolo, tutti quanti con sta carta? No, scusi, aspetta. Aridagliela, cancella. 12. E 50. A posto. 3, 27. 3, 27, ragazzi. Ottimo. Quindi, salva la partita. Continua. Andiamo qua. Dunque, gestione, licenze. Vedete che questa qui adesso la possiamo prendere. Come detto, ci vado ad aggiungere acqua, formaggio, caffè, uova, latte e tè nero. Lo acquista. Perfetto. Quindi, ci ha aggiunto queste cose. Se andiamo a vedere mercato, vedete che questo qui ha bisogno del frigo, questo del frigo, questo qui dello scaffale. Però, vedete che il tè nero, in pratica, mi costa 132 dollari. Questo e questo hanno bisogno di frigo. Quindi, quello che possiamo mettere sono soltanto questi due. Perché fin quanto non abbiamo un frigo, ahimè, ha voglia stare ancora. Perfetto, perfetto. Salta la giornata. Allora, a riapri. Perfetto. E che dite, ragazzi, vogliamo fare altri 5-10 minuti? Anche perché comunque adesso ci chiede di nuovo di acquistare una nuova licenza. Però, al momento, niente. Allora, fatture. Eccala. Questa qua te la posso pagare. Questa qui anche. Quindi, lo sviluppo. Lo sviluppo. Qual è che era? Aspetta. 350. Forse, magari, possiamo prendere anche quella lì da 350. Però, non so che cosa ci sblocca. Se, ad esempio, ci sblocca già in modo automatico anche il frigo. Questa cosa qui. Occhio. Questa cosa qui, ragazzi, non la so. Quindi, ma bisogna soltanto lavorare. 9 dollari. E niente. 13.80. 26 dollari. Allora, abbiamo finito la farina. E niente, ragazzi. Abbiamo finito la farina. Quindi. Farina. Quanto mi costa? 8. E vabbè. Prendiamola. Tanto, comunque. È una cosa che va fatta. Ok. Butta. Ale. Eh, ragazzi. Io, purtroppo, non voglio andare ad aumentare ancora di più i prezzi. Perché, sennò, altrimenti, veramente... Qui non si compra più niente nessuno. Mamma mia, 92. 5, 2, 7, 2, 9. Vabbè, va, 92, va. Tò. Vai via. Rotto. Vabbè, 100 dollari. Ok, certo. Allora, vediamo un po' che cos'è che prendono. Farina. Zucchero. Pasta. Cereali. Ok. 18 e 10. Perfetto. Ecco, uova, confezione da 8. Ci manca. Quindi, ci ha fatto già una recensione negativa. Allora, 39. Ok, a posto. Contante. Resto niente. Perfetto. E, come detto, ragazzi, purtroppo bisogna andare avanti così. Perché, fin quanto non sblocchiamo altra roba, non prendiamo altre cose, purtroppo non ci possiamo fare niente. Allora, 26 dollari. 50 centesimi a posto. Formaggio. Quindi, tutta roba che ha bisogno del frigo. 8 dollari. Ok. Allora, ci manca il pane, la pasta. Eh, ci manca un bel po' di Roma. Allora, pane e pasta. 22, 24. Ok. Ottimo. Lascia qui. Prendi qua. Allora, dai col pane. Metti qua. Metti qui. Dai, io con la pasta. Aspetti, buon uomo, arrivo, eh. Butta. Che cos'è che ci manca? La farina. Ah, lo zucchero. Eh, vabbè, ragazzi. Come detto, sono tutte cose che bisogna avere in quantità industriale. Butta. A posto. Eccomi, cari. Due pacchi di pasta. 8 dollari e 50. È a posto. Acqua in bottiglia. Tutta roba che, comunque, serve per il frigo. Allora, che cos'è che ci manca? La farina. La farina, la farina, la farina. Eccola qua. 8 dollari, a posto. E te passa la paura. 8 dollari e te passa la paura. Ok. Butta. Eh, vediamo un po'. Allora, 4,75. 4,50. Possiamo mettere pure 5. No, che 52, sì. No, sì che stavamo a fare. Per cavolo. Conferma. 4,85 dollari il pane. Allora, 5 dollari il pane. È veramente una truffa, eh, ragazzi. Purtroppo bisogna pure guadagnarci, eh. Allora, 42, 20, 40. A posto. Allora, uova confezione da 8. Ma non ci posso fare niente, ragazzi. 3,50. Aspettate che va accendo una luce. Poveracci. Per pane. 4,80. Caffetto stato forte. Eh, purtroppo, ragazzi, 73 dollari. Allora, 3 dollari. 50, 70. Perfetto. Zero. Ok. Allora, che cos'è che ci manca? Allora, mi sa che abbiamo tutto. Sì. Sì, perfetto. Abbiamo tutto. Contante. 81. 50, 70, 80. Questo lo torni indietro. 81. Ok. No, scusate, avevo sbagliato io. Quindi lasciate fare. Allora, la pasta sta finendo. E niente, ragazzi. Qua la pasta se ne va veramente via come il pane. 8 dollari e 50. E te passa la paura. Ok. A posto. Dai. A posto. Butta via. Eccomi che ero. 2 dollari e 50. A posto. E come detto, ragazzi, l'unica cosa è... Dobbiamo avere praticamente tutto. Mo' ci manca l'olio. E che non posso nemmeno ordinare. Mannaccia la miseria. Non so... Allora, qua siamo ancora aperti, però... Non so se... Ecco, acqua in bottiglia. È finito l'olio. 78 dollari. Quindi sono 50, 70. 5. 1, 2, 3, 4, 78. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, possiamo chiudere. Vedete? Prodotti non trovati. 7. 216 dollari. A riapri. E arrivati a questo punto, ragazzi, io direi di concludere qui questo nuovo episodio del... Anzi, per questo primo episodio della serie di Supermarket Simulator. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina. Mi raccomando, ragazzi, come sempre detto, like e condividete. E noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.